L'inizio di un nuovo anno è affidato a Maria Santissima. L'inizio di un nuovo anno è affidato a Maria Santissima, che oggi celebriamo come Madre di Dio. In queste ore invochiamo la sua intercessione, particolare per il Papa Emerito Benedetto XVI, che ieri mattina ha lasciato questo mondo. Ci uniamo tutti insieme, con un cuore solo e un'anima sola, nel rendere grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa. E oggi affidiamo alla Madre Santissima l'amato Papa Emerito Benedetto XVI, perché lo accompagna nel suo passaggio da questo mondo a Dio.